perché col punto di domanda c'è perché col punto di domanda o perché l'hai fatto perché l'hai detto perché l'hai pensato perché te ne sei andato te ne sei andata perché chi è che fa le domande però una volta quelli che usavano tantissimo la parola perché erano i bambini e perché devo andare a scuola perché devo fare questo perché devo fare i compiti perché devo studiare spesso le risposte erano strane oppure smettila di fare domande c'era l'imposizione poi la cosa più ridicola che ho visto è quando gli adulti cercando di imitare la voce infantile per tranquillizzare i bambini si mettono a fare i bambini e non si ricordano che quando stati i bambini e vedevano gli adulti che facevano un po gli scemi per parlare coi bambini no allora siamo tutti reincarnati siamo spiriti eterni ed è normalissimo porsi la domanda perché perché siamo qua ho visto io dei figli che hanno chiesto perché mi hai messo al mondo yogananda paramassa yogananda dice che quando in una specie l'energia maschile femminile che è più e meno nel senso noi la parola meno la consideriamo negativa invece l'elettricità l'energia si muove su qualcosa che da riceve e ritrasmette no quindi il meno non è considerato negativo ma è un'energia un'energia quindi quando in una specie in questo tipo di pianeta ha un incontro intimo e crea il tau cioè l'insieme dell'energia maschile femminile più e meno in e young crea un vortice che invece di aspirare la polvere c'è l'aspira polvere aspira spiriti e certi ne aspirano tanti di questi tanti spiriti pochi riescono ad aggregare altre cellule e crescere e allora vengono chiamati gemelli da quello che mi risulta ci sono anche quattro cinque forse anche sei pensate una che nella pancia c'ha cinque cinque gemelli è raro però può succedere succedere ma perché allora lo potremmo dire alla madre perché mi hai messo al mondo no io ho creato un vortice no è un po' come la vetrina la vetrina ci sono gli esperti fanno vedere che ti fanno entrare poi dentro se c'è o il titolare o la commessa o il commesso la musica vogliono i tuoi soldi però non è che scrivono sulla vetrina entra vogliamo i tuoi soldi no scrivono sconti prezzi sotto costi saldi grandi occasioni la parola occasione dove l'occasione sembra che è per quello che una volta uno mi raccontava che aveva assistito a un rivenditore di macchine usate che con un sorriso largo così spiegava a uno guarda me questa macchina qui l'ho pagata diciamo diecimila euro te la vendo a diecimila euro e quell'altro era tentato di comprarla ma in realtà si chiama conto deposito cioè quello che stava vendendo non aveva pagato niente assolutamente niente e se quello gli dava diecimila all'altro gliene dava otto mila quindi che cosa succede quando noi andiamo davanti a uno che sorride e dovremmo dirgli perché mi racconti palle è il commercio il commercio no dovremmo dire guarda ti prego io la pagherò otto mila euro però tu me ne devi dare diecimila perché due mila li prendo io invece guarda te la voglio dare al prezzo che l'ho pagata quando non l'ha ancora pagata allora vivendo in questo tipo di dimensione in questo tipo di atmosfera con questa energia che cosa succede ai vortici ai chakra che riceviamo non quelle che oggi si chiamano fake news perché sembra fake news che sono iniziate con internet no ma c'erano anche prima un padre una madre ha con due o tre figli si chiamano una famiglia una famiglia reale vera reale però con la r minuscola poi un'altra si fa chiamare famiglia reale con la r maiuscola e deve essere mantenuta da tutte le famiglie reali con la r minuscola quindi milioni di famiglie con la r minuscola devono mantenere monos una archia un potere mono archia che in base a una famiglia ma chi l'ha stabilito chi l'ha stabilito la tradizione sì ma la tradizione era che c'era anche la schiavitù la tradizione era auguri e figli maschi perché devono andare in guerra a difenderci dal nemico che a sua volta augura figli maschi perché deve difendersi ma non sono mai i generali i presidenti i re i monarchi i dittatori che hanno le mani sporche di sangue no loro mandano avanti quelli che perdono sangue lo fanno perdere sono i soldati i primi livelli soldato caporale sergente tenente capitano già fermiamoci lì poi i gradi alti sono la che mandano altri mandano perché è il bambino la bambina si chiedono perché quindi trova tu le risposte ai tuoi perché e non sfidare quelli che ti vogliono intimorire trova tu le tue risposte io ho capito sin da bambino proprio ricordando le mie carenazioni precedenti che non potevo pretendere che tutti vedessero quello che vedo io tutti ricordassero quello che ricordo io no non è che ero straniero in terra straniera era uno spirito incarnato in occidente per chiudere dico io in bellezza il ciclo ripetuto di nascita vita morta samsara ecco perché sono nato qua in occidente perché volevo vivere tra oriente occidente l'ultima incarnazione infatti l'ho vissuta tra india asia conosco benissimo dalla turchia a nepal conosco molto bene quelle quei posti no turchia iran afghanistan pakistan india nepal ma soprattutto l'india europa la conosco bene ho vissuto in varie parti d'europa stati uniti anni ho vissuto negli stati uniti e anche africa con degli amici generosi a costruire una scuola per i bambini africani quindi chiudo tra oriente occidente perché l'ho scelto io perché l'ho voluto io faccio questi video perché a me fa piacere mi auguro che fa piacere anche a te non non puoi più mettere commenti sotto per evitare che qualcuno scriva cose internet è una piazza pubblica quindi uno può scrivere sia cose belle che cose brutte quindi sento che tu mi mandi buona energia però se vuoi scrivermi scrivermi qua e dialoghiamo comunichiamo perché per evitare che qualcuno che scrive cose belle uno invidioso geloso beh questo è questo pianeta che è mediano questo pianeta in cui puoi o manifestare la tua divinità la tua spiritualità oppure vivere peggio degli animali peggio è inutile dire che quando un uomo è assetato uccide un siliarchile non è una bestia perché gli animali carnivori non è che ammazzano uccidono per mangiare quando hanno mangiato c'è le gazelle là c'hanno c'hanno altri animali vanno a bere solo che quando hanno fame cercano di mangiarsi qualcuno perché quello è il loro modo di essere perché perché ci sono vari livelli di coscienza questo pianeta non è una prigione cosmica però per qualcuno rischia di esserlo se perdi la visione che viene qua dal terzo occhio il vortice sesto chakra e allora sei intrappolato in te stesso e come l'uccello in gabbia gli apri la gabbia quello va dall'altro angolo perché ha paura oddio cosa sta succedendo perché non è abituato alla gabbia aperta perché la gabbia aperta non è più gabbia è casa rifugio tu vedi le rondini adesso certi hanno messo delle casette per per i pipistrelli perché i pipistrelli mangiano un sacco di zanzara se siete in campagna mettete queste casette le vendono per i pipistrelli di modo che vi tengono la zona pulita quindi se hai delle domande dei perché trovati delle risposte ma se qualcuno ti dice no stai zitto lavora studia umilmente creati uno spazio mentale e poi fisico in cui puoi manifestare meglio te stesso auguri e allora Grazie a tutti.